Cambiamenti Io direi di partire con i cambiamenti del regolamento Possiamo dire che abbiamo ascoltato, cara chat, le vostre richieste E vi siamo venuti incontro Spero Allora, innanzitutto, prima regola, i redlock giocheranno in uno in meno Sì Alla prossima Tanto giochiamo con due in meno perché siamo sempre due gol avanti a primo tempo, Andre Minchia, questo è proprio pesante Siamo abituati Allora, veramente, entriamo nel regolamento Ragazzi, ci sono dei cambi, realmente Allora, primo cambio Ecco, grazie per la grafica E la nuova regola è Sapete che quando una squadra era sotto di tre gol Giocava in uno in meno All'interno del Winter Qualify Mentre per questa Winter Season Che poi vi spiegheremo come sarà composto il campionato Abbiamo scelto che Quando una squadra è in vantaggio solo di due gol Non più di tre Deve rimuovere un giocatore in campo Dal terzo gol Guarda Mario che è già Rimuovi il secondo Quarto gol Giochi in tre in meno E così via Ok? Quindi questo è fatto, ovviamente Per favorire, ovviamente I scarsi No, i gol Gli avvenimenti all'interno della partita Ok? Esatto E anche per bilanciare Perché noi ci interessa comunque Che le squadre siano Cioè, c'è capitato purtroppo Delle squadre come quelle di Insuccio Che sfortunatamente Sono un passo indietro rispetto alle altre Quindi stiamo cercando di favorire gli ultimi Gli ultimi saranno i primi Diceva Jesus Christus E gli ultimi saranno qua tra poco Tra l'altro Ottima pronuncia Perché tra poco vedrete Caro Mario che farà in meno il fenomeno Se arriva un faina, uno sciscione Ah, qua in chat dicono Mi ciucchiano il cazzo Sia il faina che lo sciscione In chat dicono È troppo così Lo vedremo E nel caso vi ascolteremo Secondo la chat è troppo È troppo È troppo forte come regola Ma noi sperimentiamo E poi vediamo Vado su una carta pesante Tanti di voi hanno portato Qualcuno, almeno Una leggenda Cioè un calciatore che ha giocato Diciamo in In serie A In serie B o in serie C Ecco qua la grafica Poteva giocare solo un calciatore Mamma mia Professionista Mentre da adesso Esattamente come la VAR Ogni squadra Avrà a disposizione Di default Quindi tutti Per tutti gli allenatori Da inizio partita Ragazzi La carta nitro La può attivare Solo una volta partita E permette di inserire Due Ex Professionisti Quindi due leggende Contemporaneamente Per Tre Minuti Oppure per un gol segnato Quindi da adesso Potremmo vedere in campo Per i redlock Tre persone professioniste Oppure Oppure due Oppure due Perché si dice tanto Che noi avevamo Sia Sergio Crusso Che Moscardelli Volete arrivare a questo Però abbiamo vinto La semifinale e la finale Senza Moscardelli Ma questo non fa scalpore Quindi non lo ricordiamo Che abbiamo fatto il culo Soltanto con uno Beh A me non mi avete fatto il culo Pensate No 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 Hai ragione Hai ragione Fate una squadra Così magari vediamo Se possiamo risolvere Che già il pancio ce l'ha Quella verde Giusto Entriamo in una nuova carta Che sarà come il classico Quindi una nuova carta Nuova carta Turnover forzato Ah no Anzi No 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 Prima c'è il nerf mode Che è per la ruota Allora quelle che abbiamo detto Fino adesso sono delle carte Ho spoilerato Andiamo a vedere un'altra Allora nerf mode Praticamente è uno spicchio Nuovo ragazzi Che va al posto Del tanto amato Super Santos Che insomma Aveva diviso molto Abbiamo sentito Il parere della community Che parlava spesso Che sia i draft Che diciamo I VIP avevano meno spazio E si cercava sempre Di far giocare Le scelte del presidente Perché sono più capaci Più che altro Andava anche tanto in pareggio Il Super Santos Esatto E quindi vi abbiamo Nerfato le squadre In che modo Se viene attivato Questo spicchio Fondamentalmente Potranno giocare Solo draft E solo VIP Tutte le scelte Del presidente Quindi ex calciatori Così Fuori dai ball Esatto Un 5 contro 5 O solo draft O solo VIP Questo spicchio qui È stato fatto solo Per una singola squadra Diciamolo Per i blanco Oh Vabbè è vero È vero Non hanno mai fatto giocare Neanche un draft Quest'anno sì Non hanno mai fatto giocare Non è perché Dose Non li fa giocare Perché non fai video insieme Lui fa solo Non hanno mai fatto giocare Niente Voglio essere sincero Dose Non fa giocare gli altri Perché deve giocare D'Adda Azz No Pesante All'italiana Sì Gioca l'amico L'amico va poi alle poste italiane Lavora lì Lavoriamo insieme No Enzo Tu puoi giocare Vai tranquillo No vedevo Enzo Che si era già scaldato C'è in succio C'è in succio Si sta mangiando Arriva Stai calmo Potrete fare anche un pezzo live Non voglio spoilerare niente Occhio perché la serata è piccante Dobbiamo terminare Però il regolamento C'è quella carta che ho spoilerato prima Turnover forzato Che un po' potrebbe assomigliare a uno spicchio Ma no La carta del turnover forzato L'attiva l'allenatore Ok L'allenatore attiva la carta E fa uscire tre giocatori della squadra avversaria Imponendo a tre della panchina di entrare Per tre minuti è un gol Per cui è un turnover forzato Ma questa è fissa come il nitro? No 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 Questa è una carta Una delle carte nuove che abbiamo messo Anche qua per andare incontro a quello che dicevamo prima Che i Blancos non facevano giocare in draft Allora abbiamo detto Facciamo sta roba qua così O li potete giocare O venite Cioè non potete È una regola L'allenatore della squadra che subisce la carta Può fare altri cambi? A bozza No allora Rispiego la carta Non ho capito Facciamo un esempio Siamo squadra bianca Mia contro squadra blu Io tiro fuori la carta turnover forzato Scelgo tre giocatori della squadra Fai entrare tre punte No aspetta una cosa Io se io tiro fuori la carta Io scelgo tre giocatori della sua squadra Da far uscire Da sostituire Gli scelgo chi deve mettere in campo A lui metti per esempio tre punte E sono obbligati a rimanere per tre minuti o un gol Esatto ma se a lui metti tre punte Lui poi può rispondere con dei suoi cambi alla carta No 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 Per tre minuti o un gol deve rimanere così ovviamente Cioè la squadra che è in campo deve rimanere quella È turnover forzato Frizzata Come se fosse frizzata come carta E se uno dovesse fingere un infortunio Cazzi suoi È vero Se uno finge un infortunio Allora ragazzi per un attimo Noi abbiamo messo Ovviamente in campo ci sono sette persone Ci siamo? Le squadre sono composte da dodici Noi all'inizio volevamo mettere tutta la panchina Va in campo Ok? Ok Abbiamo scelto di mettere tre giocatori Perché di base chiunque deve avere tre giocatori Se la squadra ha solo due cambi O finge che qualcuno stia male Ci riserviamo noi della Lega Di multare sul campo con delle penalizzazioni Quella squadra che si è resa protagonista di un atteggiamento del genere Punto Bello Tranne se Bellissimo No però ci sta Io non mi aspettavo che avreste trattato questi argomenti qua Spero che anche arrivi Era la cosa più prevedibile del mondo Se no vincevamo di nuovo noi È chiaro che bisognava riequilibrare le cose Spero che arrivi anche il momento in cui magari Trattate il fatto del dopaggio e tutte queste cose qua Dici che c'è Allora metti caso Metti caso Metti caso Metti caso Io Mio fratello Lo fai dopare Lo faccio dopare Vado in Egitto per una settimana Faresti solo che bene È un ipote Perché è in Egitto Lo vedi che è diventato MC Douglas 2 Faresti solo che bene Lo accettiamo per come Voglio capire se c'è un problema Noi siamo inclusivi Ah ok allora va bene quindi Sì sì E anche se gioca Non è un problema Se scommette sulla God League Non è un ministro Non è un ministro No Da questa winter season Visto che otto partite Nel primo tempo Sono finite 0 a 0 E non sono state giocate carte Come sapete la nostra Lega nasce Perché il calcio normale È una rottura di coglioni Che non capita niente Quindi noi non possiamo permetterci Che ci siano 15 minuti Così E quindi ogni squadra Avrà diritto Di pescare Non una carta Ma due carte A partita Olè E le carte Potranno essere giocate Solo una tempo Questo è fatto Perché essendo di 15 minuti Il tempo Così ogni 4 minuti Perché non si possono giocare insieme Capita qualcosa Che dici Minchia Bellissimo Durante le vostre strategie Ragazzi Molto spesso Le carte venivano Utilizzate Nei secondi tempi A parte il rigore presidenziale Così almeno abbiamo Un primo tempo Molto Con della ciccia Con della ciccia C'è un primo tempo Che tra le due carte E ovviamente la ruota Che è di Sisal Fan Club 20-24 Fan Club Rimane Meno paura Mi ho dimenticato Fan Club L'ho ripetuto due volte Rimane Quindi ci avremo Tre interruzioni A tempo Più la Nitro Il Valt La chat è un po' divisa Alcuni dicono Cazzata Alcuni dicono Figata Alcuni dicono Particolare Secondo me Secondo me ragazzi È una situazione Da testare A me a Andre Piace molto Però ovviamente La vediamo Non avrei così paura Ragazzi No beh È basata su una statice Noi ci abbiamo Ci ammessi lì ragazzi Ve lo dico Con Luca Un match analyst Abbiamo analizzato Questa cosa qua E c'è proprio Va contro l'etica Ovviamente Come vale Per le altre puttanate Di regolamento Che abbiamo fatto Se vediamo che è una Una stronzata Esatto Torniamo indietro Sì sì La tiriamo via La seconda partita Senza problemi Esatto Quindi Comunque Continuate a consigliarci Voi ragazzi Come funziona La Lega Ok Partiremo Amici miei Con una Winter season Ok Abbiamo qui la grafica Saranno Due Gironi Uno blu E uno bianco Andata E ritorno Quindi Da qui Alla termine Della winter season Ci saranno Cinque Appuntamenti Da due giorni Quattro appuntamenti Per i gironi E un appuntamento Per i playoff Che adesso vi spiego Chi va ai playoff Girone Bianco E il girone blu Ovviamente Da una parte Come vedete Abbiamo già i redlock Che avranno poi Tre punti All'interno del campionato E gli atletico al bar Che ne avranno due Che partiranno con due Tra poco Ash Inizia a entrare Nell'ottica Perché Entro fine puntata Devi scegliere In che girone andrai Non me lo dire ancora adesso Ok Le prime Due squadre Di ogni girone Si qualificheranno Alle Finali Mentre le altre squadre O quindi La Terza Quarta e quinta Tutte avranno La possibilità Di avere accesso Alle finali Alle fasi finali Esatto Attraverso I playoff Ragazzi Che Successivamente Vi spiegheremo Come verrà fatto Attenzione Perché posso Già dirlo adesso Amici a casa La finale Cosa Pubblico Sarà Aperta Al pubblico Andiamo Bravi bravi Io posso invitare Tutti i miei undici fratelli C'erano già i fan I napoletani I fan di Cristo Con il cazzo Che pagano i miei fratelli Attenzione Ogni Squadra Che Accederà Alle finals Però Avrà a disposizione Tot posti A seconda anche Del piazzamento Per Riempire Lo stadio Non posso ancora dire Come lo stadio Non ho detto niente Non ho detto niente Lo stadio ha detto Non posso ancora dire niente No ha detto lo stadio Sì bro Allora siamo Sì Siamo In trattativa Però non possiamo ancora dire niente Tra l'altro Vabbè mi stava scusato Eh sì Siamo in trattativa Però le finali saranno in uno stadio Ovviamente i posti saranno A seconda Di come vi qualificherete E vogliamo gli Ultra Spero che gli Ultra Siano contenti Spero che gli Ultra Ci stiano ascoltando Esatto ragazzi Vogliamo fumogeni No bombe carta Ma non oggi Per farvi avere un'idea Chiedo alla produzione Se posso appena spoilerare Sarà simile indicativamente Per se conosci ai playoff Della serie B Per salire in serie A Belli Indicativamente Bellissimo Ok Quindi Ricordo a tutto il pubblico Che Avrete accesso E sarà Il biglietto Disponibile Per due giorni Perché saranno due giorni Praticamente di finali Ok Indicativamente Sarà a fine gennaio Le finali Che frio Porca puttana Non posso ancora dire niente Sul campionato Stiamo dicendo già troppo Ok Non posso dire nientà Il mio complanno è il 10 febbraio C'è qualche regola che vi fa cagare Qualcosa che non vi è piaciuto È bello perché Squadre come Blanco Sul Golden Stake Possono arrivare in finale Perdendo tutte le partite ai gironi Sì in realtà Perché arriva ultimo Potrebbe esserci una sorpresa pesante Hai capito Immaginavo Cazzo A me non A me piace tanto il calcio Giocato Mi dispiace che ci sia Poco tempo effettivo Di gioco E che tutto venga Sfalsato E si gioca tipo Tre minuti e mezzo Titolari Eccetera Però è un mio gusto personale Poi anche Perché hai provato a fare L'altra modalità Come Hai provato già L'altra modalità Questa qua No dici che è troppo prematuro Criticarla Mi hai detto cosa ne penso Bancione No Dico Dico che già Nella scorsa Got League È stato un po' spiacevole Dal mio punto di vista Che non si potesse giocare A calcio per bene Però Sono d'accordo Capisco anche È un po' spiacevole Perché sembra che si voglia Abituare A tenere il livello basso Piuttosto che forzare gli altri Ad aumentarlo Il livello Cioè Sembra che si dia Ha diritto agli scarsi Di essere meno scarsi E quelli forti Di farvi Guarda che le carte Mario agiscono A tuo vantaggio A tuo svantaggio Come per gli altri Se tu sei consapevole Di essere forte Te ne dovresti fregare Di queste cose Invece a quanto pare C'è una paura fottuta Andrea Perché lo dovrei dire Cioè Che ci siano le carte Che ci sia il Super Santos Che ci siano gli shout out Se tu hai una squadra forte Non dovresti Penso anche che il Super Santos Sia un'idea di merda Per esempio Oh là bravo Se proprio vogliamo parlarne A me piace quando la gente Gioca a calcio Quando si fanno i sotterfugi Per È più show Che calcio Boh Per me il calcio è un bellissimo show Non c'è bisogno di snaturarlo Snaturarlo così tanto Però è una mia idea Però A onor del vero Lo dico La nostra lega Nasce dalla statistica Che il calcio Purtroppo Per quanto io Possa capire il tuo punto di vista Il calcio è uno sport noioso Che per l'80% del tempo Gli under 50 Guardano il telefonino Perché non capita un cazzo